la poesia c'è un'immaginazione del maestro Albert Chassuoli Albert Chassuoli il figlio, il figlio, il figlio, il figlio e sapere un po' ce l'ha alba che fa questo genere in due tretti di te questa genere sui l'annacente divinar la primavera della sera a lui ha pensato a quale fa da l'è prele a lui ha pensato a quale è per un dottri è che un sole che bruja è un queso che fa a bia, che stai bene come schumare tutti i sole che bruciano. Ma vanno, con voi che ci sempre, mi dica l'ombra buscata, ma non c'è il pensazione, mancherà da ippi beh, a metterla premora, a provarola in sì al pied del pensazione, andando a fuori un bel irem gli è stata diaria è un xapone, un risultato di poco come un pezzo, ma non è da la xapni la notte, i bambini sogni dal pè, dal pè, dal pè dal pè, dal pè, dal pè appena sbrocca l'erba, rimanete brutè ed evitla stagione che tralla dette qui è insomma, e direzza il stagio buttè di linea, vivendo un blacca di coet e poi andiamo a prendere un altro passaggio e io direi qua voi il pire è tutto da noi che sempre passa e poi la vecchia e il sole che deve e un sette mesi di che sono i valori della corte la pesca di una vela e torna torna un fatto un sol che pede al giro di ansiedi al ciòche e al luog di al fagno la testa non si stanno retta e oggi mi scelgo di adesso e va via dormi e us vi già nascere le stoffe le cose con la pez l'amico il grande amico il dottor Giochino Strocchi il dottor Giochino Strocchi